Verso i 40 anni Ho letto che il Corano accenna al fatto che Maometto avrebbe avuto le prime esperienze profetiche verso i 40 anni, verso il 610, anche se la scienza orientalistica rimane scettica sull'attendibilità storica delle prime esperienze spirituali di Maometto. Dopo il matrimonio Maometto avrebbe avuto una crisi spirituale a cui seguirono lunghi e periodici ritiri spirituali, in arabo ta'annut, che precedettero alcune sue esperienze teopatiche, visioni di un angelo e fenomeni auditivi. La prima rivelazione dettata gli dall'angelo Gabriele pare sia quella contenuta nel passo coranico 96, 1, 5. Tutte le rivelazioni sarebbero state accompagnate da attacchi di brividi violenti. Dopo la prima rivelazione, le esperienze teopatiche di Maometto cessarono, per poi riprendere e continuare con regolarità. Alla fine del 612, una visione avrebbe ordinato a Maometto, che fino allora aveva parlato dalle sue esperienze soltanto a pochi intimi, di iniziare il suo apostolato pubblico. Tutte queste notizie come si spiegano? Commento Si spiegano se si sostituisce la frase esperienze profetiche con esperienze medianiche. Se si considera anche Maometto un medium, un mezzo, un tramite e, come dicono i maestri immateriali, uno strumento. Alla fine del 612, una visione avrebbe ordinato a Maometto,